Il canale terrestre Allora partiamo dal santo del giorno e poi vediamo subito il tempo e i giornali perché anche oggi ci sono molte notizie interessanti da sottoporre. Ecco qua, il santo di oggi è Sant'Emanuele, il sole è sorto alle 6.02, tramonterà alle 18.31. Sempre da trebimeteo.com, weekend delle palme, tra sole e qualche pioggia, temperature fino a 18-20 gradi. A parte domani, insomma, che anche qui nel Fanese forse è un po' di pioggia, domani pomeriggio, ma insomma poca roba. Intanto da lunedì arriva l'anticiclone africano che ci porterà punte di 25 gradi centigradi, quindi sarà quasi un assaggio dell'estate, dopo aver passato questi giorni un po' freddolosi. I giornali Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, vediamo subito l'apertura. Allora, intanto sì alla guardia pediatrica, questo è il titolo, medici a supporto del reparto Covid partorienti al San Salvatore, aspettando poi il punto nascita, aspettando che a Pesaro riparta e venga riattivato il punto nascita. Oggi lo ricordiamo, si può nascere solo a Fano, oppure i pesaresi abbiamo visto vanno e preferiscono andare spesso a Romagna, a Rimini. A Quaroli invece, a Quaroli il governatore chiama Speranza, il ministro, sul colore delle marche dopo Pasqua, perché fino a Pasqua togliamocelo dalla testa, resteremo rossi. Forse dopo Pasqua, visto come stanno andando un po' le cose, questi contagi che stanno leggermente scendendo, anche nelle province come Ancona, Macerata e anche Pesaro, se poi Pesaro ha a che fare adesso con un'incognita un po' particolare, questa variante new yorkese, due persone che sono state individuate con questa variante di cui si sa poco, quindi non sappiamo se si diffonderà rapidamente, come è successo poi ad Ancona, con quella inglese, che poi ha portato Ancona a diventare rossa prima del tempo. Insomma, questa è un po' l'incognita, però pare che l'arancione non sia poi un traguardo così lontano dopo Pasqua. Invece, nella pagina centrale, vedete la fotonotizia, è per il cambio al vertice della Dondapp, l'azienda fondata da Berloni a Fossombrone, Marzotto dunque esce di scena e questa grande azienda, che fattura tantissimo, ho letto 52 milioni di euro, passerà di nuovo, tornerà in mani italiane. Poi, sempre dalla prima, in breve, la cronaca, circuiscono un prete, una coppia è stata condannata, ma lei non si trova, mille mascherine ad Acqualagna non certificate, alcuni negozianti sono finiti nei guai, e poi a Fano annuncia, luci rosse, scoperte cinque alcove con squillo e trans. Si, Tin invece, protesta per la scuola e attività, i presidi raddoppiano questa mattina due piazze in contemporanea, manifestazioni al campus, a Pesaro sempre, e in centro storico. E Pesaro dà l'addio a Don Guido, il prete di tutti, così titola la fotonotizia, la chiesa, la città in luto aveva 86 anni, ma c'è appunto qui in apertura la buona notizia, che i contagi sono in calo, uno spiraglio di luce, giù del 22% negli ultimi tre giorni, ma resteremo comunque rossi, occhi puntati, come dicevo, sulla variante new yorkese. Intanto il carcere, il carcere è allarme positivi, 47 detenuti a Villa Fastigi, e ci sono anche molti agenti. E poi, come abbiamo visto poco fa, oggi al campus e in Piazza del Popolo, dalla scuola ai commercianti, doppia protesta. Ci sono i panchinari, quelli che stanno lì ad attendere se qualcuno rinuncia, al Monaldi, il punto vaccinale, i panchinari in fila per il vaccino, venite, due dosi sono avanzate, e quindi per non sprecare nulla, chiaramente poi chi resta e ha la pazienza di restare lì, viene premiato. Medici di base dagli anziani, fiale anche per le badanti, a domicilio e in ambulatorio. E poi da Marche Nord, nuovi posti a Galantara, subito trasferiti nove pazienti. E poi c'è un'intervista, che vedremo tra poco, a pagina 4, con il primario Gnudi, che dice paghiamo troppi comportamenti sbagliati. Valentino Luca, invece, via al duello tra i fratelli. Rossi Marini, oggi le prove libere in Catare. Il dottore, cioè Valentino Rossi, spero non sia il mio ultimo anno. E poi da Fano, ragazza squillo scambia agenti per clienti. I poliziotti indagavano su un giro di prostituzione a Baia Metauro e a Sassonia, quattro le persone che sono state segnalate. Andiamo a Macerati, invece, per vedere questa fotonotizia, che riguarda sempre ovviamente il Covid. Il titolo è Forza Don Carlos, è il prete dei malati Covid, che è stato contagiato per la seconda volta. Il parroco della Santa Madre di Dio ricoverato al pronto soccorso, aveva ricevuto la prima dosa di Pfizer. Mi sento in buone mani. Ora, siamo sulla cronaca di Macerata. Va detto che, perché può preoccupare certamente questo fatto che si è ammalato per la seconda volta, diciamo che la prima non se ne è anche accorto e soltanto con il seriologico ha visto che aveva prodotto degli anticorpi, quindi non sappiamo benissimo esattamente come siano andate le cose. Magari c'è traccia di anticorpi, ma il Covid vero e proprio lo ha preso per la prima volta adesso. Non stiamo adesso ad esagerare troppo, perché se no non usciamo più. Però, auguri Don Carlos e avanti così. Il calo dei contagi, invece, ora si sente anche tra i più giovani. Acquaroli chiama speranza a meno 24% nei primi tre giorni della settimana rispetto a sette giorni fa. Dunque, come vedete anche da questo riquadro pubblicato sul Corriere, diciamo che la situazione sta leggermente migliorando. Questo è l'effetto, chiaramente, della restrizione della zona rossa che evidentemente produce comunque degli effetti. Ieri comunque positivi a oltre quota 600. Ancona rimane sempre prima in una classifica appunto dei contagi, ma è in discesa. Le vittime purtroppo invece sono ancora 17 e in tutto, in totale, dall'inizio della pandemia, sono 2.566 in tutta la regione Marche. Si punta all'arancione, come dicevamo, anche sulla cronaca di Ancona. Ancona che già, avendo cominciato prima, quindi essendo già rossa da prima di noi, quindi la provincia di Pesor Urbino, insomma, cominciano a sentire il peso di queste restrizioni e quindi cominciano a guardare un po' più in là. In là di dove? Di Pasqua. Si punta all'arancione, i casi diminuiti del 16% dalla settimana scorsa, si sperano in restrizioni più morbide a metà aprile. Siamo ancora sopra però i 250 infetti ogni 100.000 abitanti. Ora, facciamo invece adesso un'analisi, grazie a questo articolo di Martini e Martinangeli, Marinangeli del Corriere Adriatico, per vedere un attimo com'è la situazione nella nostra Regione. Soprattutto focalizzandoci un attimo sulla questione degli ottantenni. Allora, partiamo da un dato. Quanti sono gli ottantenni nella nostra Regione? Lo abbiamo già detto, ma lo ricordiamo. All'incirca 124.000 anziani, che hanno più di 80 anni. Molti dei quali ci seguono. Buongiorno. La popolazione over 80 corrisponde appunto nella platea di 124.000 persone, escludendo quelli che stanno nelle RSA, nelle case di riposo. Ora, stando ai dati forniti dalla Regione e aggiornati a mercoledì, risultavano 20.000 gli ultraottantenni prenotati, a cui però non è stata ancora stata somministrata nemmeno la prima dose nei centri vaccinali distribuiti nel territorio. Quindi, 124.000 agli anziani ottantenni, 20.000 ancora quelli che non hanno ricevuto nulla. Ok? Altri 14.000 invece sono quelli iscritti, 15.000 quelli iscritti nelle liste speciali, perché non riescono a camminare, non possono uscire. Quindi 20 più 15, 35.000. Ieri, dice Salta Martini, l'assessore regionale, abbiamo somministrato 7.000 dosi solo nella giornata di ieri e la Regione punta ad arrivare a 12.000 dosi al giorno. Quindi capite, da 7 a 12, ancora ci sono un buon numero, quasi il doppio, 5.000 dosi da riuscire a inoculare nelle persone. Ora, sempre a ieri sono arrivati i vaccini, perché il problema è la fornitura di questi vaccini, perché è inutile aumentare gli hub, aumentare i punti vaccinali, aumentare il personale quando poi manca la sostanza, la materia prima, quindi il vaccino. Allora, ieri, attenzione, risultavano presenti nei frigo della Regione Marche 30.000 dosi di Pfizer e circa 12.000 di AstraZeneca. Di Moderna, invece, ne sono arrivate domenica 9.900, quasi 10.000 dosi e sono state tutte immediatamente distribuite ai medici di base e nelle RSA. Per quanto riguarda, invece, i centri vaccinali, chiaramente, noi leggiamo solo i giornali di Pesaro e Urbino, ogni tanto andiamo a vedere qua e là, sbirciare anche fuori provincia, ma vi assicuro, leggendo tutte le edizioni prima di andare in diretta, da Pesaro fino a giù, il sud delle Marche, che le situazioni di Pesaro sono più o meno identiche anche in altri posti. Quindi ci sono centri vaccinali giudicati troppo piccoli, un po' come il Monaldi. Monaldi che, tra l'altro, chiuderà in settimana perché da lunedì si comincia in un ambiente completamente nuovo, quindi all'ex Ristò, all'interno dell'Iperconad, quindi in uno spazio che è di circa 1200 metri quadrati, quindi dovrebbe essere più attrezzato. Ma, dicevo, questi centri, dice sempre Salta Martini, l'assessore regionale, sono stati strutturati sulla logica della catena di montaggio. Con lo stesso quantitativo di personale si riescono a vaccinare più persone. In sostanza, sono stati individuati questi centri, quindi anche il Monaldi, in base alla vicinanza a strutture ospedaliere, in caso, per esempio, di shock anafilattico. Se una persona subito dopo il vaccino è allergico e va in shock anafilattico, il centro deve essere necessariamente vicino all'ospedale perché il trasporto sia il più breve possibile. E quindi, tra punti vaccinali, medici di famiglia, garantiamo, dice Salta Martini, un volume che non richiede modifiche, per cui, più o meno, la situazione e l'organico resterà lo stesso. Poi, alcune modifiche, come quello del Monaldi, possono essere sempre fatte. Invece, c'è un'intervista, sempre sul resto del Carlino, questa volta, di Luigi Illuminati, che intervista un ex dirigente della Sanità Marchigiana. Si chiama Claudio Maria Maffei. E Claudio Maria Maffei, tra l'altro, parla anche dell'ospedale Peserofano, è interessante, adesso ci arriveremo. parla di come il fattore tempo sia stato determinante e sul virus, noi non lo diciamo quasi mai, ma al di là delle regole, regolette e quant'altro, il fattore tempo è fondamentale, soprattutto perché su questo gioca il virus. Tutte le varianti di cui noi parliamo ormai da diverso tempo e di varianti apriamo parentesi di virus, di varianti del virus ce ne sono tantissime, poi le cosiddette varianti predominanti a queste gli viene dato un nome perché appunto sono prenovinanti, ma altrimenti nascono e muoiono queste varianti in continuazione ce ne saranno un'infinità. Però poi quelle che resistono di più, quelle che si moltiplicano di più, come l'inglese, la sudafricana e adesso la new yorkese bisogna capire e soprattutto vedere se questa new yorkese riuscirà a diffondersi e a creare qualche problema soprattutto per chi si è vaccinato. Detto questo, torniamo a questa intervista, dicevo, la reazione tempestiva quindi fattore tempo sulle terapie intensive è stata ammirevole, per il futuro però bisogna affiancare Torrette, meglio Torrette perché Torrette come abbiamo visto rispetto alla prima ondata questa volta ha avuto veramente dei seri problemi, cioè ha rischiato di andare nel collasso più totale, insomma abbiamo visto un giorno addirittura è stato chiuso. Allora che cosa dice? Evidente che in Ancona c'è voluto troppo tempo rendersi conto per esempio che la variante inglese stava dilagando, siamo stati troppo attendisti a metà febbraio quando i casi si erano già accentuati. Bisogna anticipare il virus, dice lui, non inseguirlo e sulla variante di New York non so niente, dice, ma credo che stavolta a Pesaro dopo quello che è accaduto l'anno scorso non si faranno sorprendere. Ora, a proposito dell'ospedale Peserofano, la domanda è lei ha sottolineato più volte l'importanza di un ospedale di secondo livello anche a nord, cioè qui nella provincia di Pesorbino. La risposta dell'ex dirigente della sanità marchigiana, appunto, Claudio Maria Maffei, è diciamo che l'ospedale unico Peserofano sarebbe quasi naturale per un rafforzamento della sanità marchigiana, torrette da sola non può rimanere, ma dopo l'epidemia molte cose cambieranno nella sanità anche nelle Marche. E poi c'è un elogio che è meritato, fa a Marche Nord diretto da Maria Capalbo, lo diciamo noi anche se qui non c'è scritto. Diciamo che la reazione della direzione generale di Marche Nord è stata molto energica ed apprezzabile sui nuovi posti di terapia intensiva, ok? Le nuove terapie intensive previste dal Piano Nazionale sono state fatte tempestivamente per reggere la seconda ondata, anzi Pesero stavolta ha accolto i malati di Ancona e non è una cosa così scontata. Ricorderete chi ci segue tutte le mattine quando ancora nessuno lo scriveva ma vi dicevo guardate che Pesero si sta riempiendo come struttura come 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 si dice terapie intensive. ma non sono pesaresi i ricoverati sono tutti quelli che intanto cominciavano ad ammalarsi ad Ancona e anche dalla zona di Macerata quindi un elogio giusto e che va va fatto a Marche Nord e quindi anche alla Capallo perché ha fatto davvero un gran lavoro. E restando a Marche Nord invece a parlare oggi è il primario Umberto Gnudi sempre dalle pagine del Carlino a pagina 4 Gnudi lo vedete in questa foto mentre nel momento della sua vaccinazione è stato uno dei primi ovviamente come sanitario a prendere le dosi di Pfizer e il primario dice anche qui cose interessantissime intanto rispondendo alla domanda di Davide Eusebi che anche oggi ha fatto una bella intervista allora Davide Eusebi che chiede insomma a Dottor Gnudi chi sono i malati di Covid ora oggi e Gnudi risponde una cosa che già sappiamo in queste ultime settimane anche i giovani dice lui ci sono giovani oggi per esempio abbiamo ricoverato un 31enne un 37enne e un 46enne mentre l'anno scorso essere giovane era quasi una garanzia di scarse complicazioni ora vediamo che molti giovani peggiorano peggiorano rapidamente attenzione e ne abbiamo di ricoverati anche in gravi condizioni chi o cosa ha acceso la miccia questa volta la domanda di Eusebi la risposta di Gnudi i fatti dicono i comportamenti promisqui dei più giovani molti evidentemente non hanno osservato le regole del buonsenso come ad esempio evitare di ritrovarsi in gruppo specie in luoghi chiusi certi consigli sono stati insomma recepiti come legge da trasgredire andiamo avanti ciò che sappiamo per esempio della New Yorkese dice Gnudi è che è che il virus è più aggressivo anche se la mortalità è diminuita ora come curate invece le persone che si ammalano e la risposta è non ci sono rimedi miracolosi gli anticorpi monoclonali funzionano ma soprattutto se presi entro le 72 ore dal contagio costano molto non saranno mai un rimedio di massa ma sono fondamentali soprattutto per le persone più fragili non è e poi non c'è ancora una medicina vera e propria per il virus e allora e allora ci serve la dice Gnudi solo il vaccino ma ieri sera per esempio racconta un fatto mia suocera di 94 anni ha fatto il richiamo intorno c'era il deserto tanti hanno rinunciato quando finirà questa cosa quando ci saremo vaccinati tutti staremo molto più tranquilli anche se non credo che ci libereremo completamente del covid ma ci sono poi altre domande altre risposte che troverete sul resto del Carlino in edicola oggi l'andamento dell'epidemia anche a Pesero che oggi pubblica i dati comune per comune di tutta la provincia li vedete qui di spalla sulla destra i contagi sono in calo tre giorni con meno 22% non è poco dal 22 al 24 marzo cambia il verso anche Pesaro e Urbino frenano anche Ancone e Macerata l'incidenza scende ma non basterà come dicevamo a far saltare la zona rossa intanto allargando un po' questo riquadro sono tutti i dati che troverete anche sul sito della Regione Marche ma che in questo caso ci torna comodo anche per darvi una situazione un colpo d'occhio dove ognuno può vedere sono in ordine alfabetico può vedere un po' il proprio comune ecco noi evidenziamo Fano per esempio che di positivi ne ha in questo momento 418 in una città di 60.000 abitanti e in quarantena ci sono 666 persone a Mondolfo 101 sono i positivi al Covid 155 quelli in quarantena Pesaro ha un dato ovviamente il più alto di tutti ma insomma città capoluogo 702 con 1135 persone in casa perché appunto positive a Urbania dicevamo Urbania che insomma non è una grande metropoli quindi avere 102 positivi e 134 persone in quarantena a casa insomma fa un certo effetto soprattutto perché il paese non è grande quindi 102 persone che sono positive fanno rumore così come a Urbino e a Vallefoglia che è a poco sotto i 100 i medici di base che vanno a domicilio dosi anche per le badanti e gli assistenti dai problemi burocratici a quelli legati ai tempi di somministrazione ecco come si organizzano i camici bianchi dunque questo è un altro un altro pezzo interessante che vi invito a leggere i familiari degli anziani ci facciano trovare compilati i moduli con i dati quindi insomma per andare più veloci più spediti e poi prima degli over 80 non autosufficienti ma poi anche vulnerabili insomma anche i medici di base sono scesi in campo a dar manforte dopo aver messo i puntini sulle I dal punto di vista burocratico ecco per il resto insomma adesso dovrebbero dare manforte per cercare anche di velocizzare e di aiutare le persone che per esempio ripeto non possono uscire e quant'altro cambiamo argomento adesso Vallefoglie invece mascherine il problema delle mascherine ad Acqualagna la finanza è andata non solo ad Acqualagna anche a Urbino e a Fossombrone e ha sequestrato 13.500 articoli compresa anche bigiotteria cuscini e plaid ma sono le mascherine senza certificazione che in qualche modo fanno più come dire più rumore perché poi sono le mascherine che noi indossiamo e che quando non sono conformi alla normativa in materia di sicurezza uno si domanda ma allora rischio non rischio se manca un timbro che succede quella mascherina è fallata non va bene non va bene cioè la normativa parla chiaro se non c'è evidentemente nessuno ha controllato magari funziona ma nessuno evidentemente l'ha controllata quindi è stata prodotta imbustata e commercializzata il timbro invece ci dice che è stata prodotta verificata controllata e poi avendo superato tra virgolette l'esame viene commercializzata quindi il timbro ci dà quella sicurezza lì poi se non ce l'ha evidentemente funziona lo stesso ma questo non va bene e quindi deve esserci il timbro e quindi la finanza ha fatto benissimo a sequestrare tutto quanto lo dico per chi ha paura insomma per chi magari si fa le cose mentali morto Don Guido invece sulla cronaca di Pesero del resto del Carlino Don Guido Vincenzi è un sacerdote il sacerdote del popolo si è spento ieri a casa Padre Damiani oggi la camera ardente e per lui il rosario domani alle 11 ci sarà il funerale in in Duomo e chi era Don Guido Vincenzi per i pesaresi è stato un prete che ha dato tanto è stato appunto definito il prete del popolo in particolare nella prima parte del suo apostolato si è dedicato ai bambini ai ragazzi la parrocchia è la parrocchia di San Carlo che è diventata il centro di aggregazione del quartiere abitato da tante famiglie immigrate dalle campagne qui lo vedete insieme insieme a tanti dei suoi parrocchiani che adesso lo ricorderanno a Fanno invece il Corriere Adriatico prostituzione a prezzi stracciati dagli annunci scoperte cinque alcove gli annunci sono quelli che le prostitute ovviamente coloro che fanno questo mestiere devono pubblicare sui vari siti eccetera per reclutare clienti gli annunci sono quelli la polizia sorprende quattro donne anche un trans anche alloggi di fortuna nel degrado della periferia vedete qui i poliziotti che hanno controllato questo vecchio anzi questo non vecchio questo capannone in disuso che è nella zona di Centinarola capannoni che sono abbandonati e che qualcuno entrando forzando la porta ha utilizzato per giaciglie di fortuna mentre per quanto riguarda ecco sempre la pagina di Fanno bene la sicurezza ma ci sono anche disperati senza tetto privi di aiuti la consigliera Luzzi evidenzia quella che è l'emergenza la ragazza squillo ci prova con i poliziotti titolo invece il Carlino gli agenti in Borghese ovviamente stavano indagando su un giro di prostituzione di sudamericane a Baia Metauro e nella zona di Sassonia siamo nella zona del mare tutte queste persone sono state segnalate non c'erano dubbi sull'uso delle stanze ma venivano gestite in autonomia schiaffi invece alla ex negoziante nei guai condannato a due anni e tre mesi per maltrattamenti bastava nulla per essere picchiata e qui Elisabetta Rossi in qualche modo racconta di quello che è un processo che si è tenuto al Tribunale di Pesaro beni culturali invece e monumentali fanesi varato un progetto di valorizzazione si parte dal nuovo allestimento all'interno della chiesa di San Michele crescerà lo spazio espositivo mentre non abbattete quella villa davanti al bastione del Nuti i Cinque Stelle dicono risale agli anni trenta al suo posto una nuova edificazione con tanto di piscina e di tettoia ma chi laici invece alle isole ecologiche sempre da Fano lavori contro il degrado e il dissesto l'assessore Brunori annuncia l'avvio dell'intervento che avverrà in tre steppe in Sessonia verrà fatto anche la pavimentazione della passeggiata poi dice rifaremo anche la rosa dei venti ciclovia apertura di serie possibile un'alternativa non condividiamo il nuovo progetto ma possiamo indicare un altro tracciato tra l'ipotesi un percorso in Viale della Repubblica e Via della Colonna nei contratti invece a tempo determinato a partire d'aprile nello staff di Cristian Fanesi due assunzioni uno fa parte della sua corrente politica la Lega attacca invece Alessia Morani Aset e Marche Multiservizi dopo la fusione bollette in aumento questo il PD si dimentica di dirlo ai fanesi e poi dalla pagina 7 invece del Corriere Adriatico andiamo a Fossombrone dove si parla di questo cambio al vertice di una grande azienda di moda che è la Dondap gli italiani tornano al timone l'azienda di Fossombrone leader del Preta Portè e simbolo del tessile pesarese passa da un equity statunitense a quella italiana quella tricolore made in Italy fund questa è la notizia con tutti i particolari ovviamente che troverete in questo articolo di Massimiliano Viti Marzabotto esce di scena Lascio dice lui un'azienda in salute Anchisi invece diventa azionista e resta amministratore tutto questo ovviamente per dire che la Dondap è stata fondata nel 1999 da Massimo Berloni Emanuela Mariotti il brand è specializzato nel denim e produce collezioni perta portè uomo e donna made in Italy nel suo quartier generale di Fossombrone e avallendosi di laboratori locali e con questo no ancora abbiamo qualche minuto andiamo nella pagina di Urbino e li porto attesa senza reali risposte Londè l'ex senatore insomma chiama Ancona a sostegno con i consiglieri Cangini e Luca Londè chiede lo stato del progetto previsto a Castaccolo di Urbino il sindaco replica Gambini mi fa piacere che abbiate sposato i nostri progetti come questo intanto sempre da Urbino il bar ora fa solo asporto si riapre in sicurezza una decisione netta ma disagi per personale e pazienti dell'ospedale anche i carabinieri in visita al bar dell'ospedale di Urbino dopo la segnalazione di presunti assemblamenti al bancone qualcuno diciamo si vedono insomma basta girare un po' i bar qualcuno un caffè in tazzina sfugge sempre come si dice o qualcuno si nasconde pure dietro qualche colonna ma vabbè Famiglione di Cinghiali invia Occhialini scatta l'allarme social fate attenzione siamo a Fossombrone il sindaco si mobilita e segnala la forestale previsto un sopralluogo per verificare come muoversi quando si incontrano i cinghiali perché ci sono non è che uno prende scappa ci sono delle tecniche anzi sarebbe interessante anche raccontarle un po' nel dettaglio non è che uno incontra i cinghiali tutti i giorni però sempre è meglio sapere le cose che non saperle mentre andiamo sull'altra pagina della Valle Cesano da Mondolfo è morto a 90 anni Dario Zandri il barbiere che ha fatto la storia musicista e impegnato nel sociale vendeva anche i giornali e tutta la città tutto il paese di Mondolfo è in lutto potete immaginare insomma 90 anni con un mestiere che insomma già di per sé ti porta a stare sempre in mezzo alla gente come il barbiere e poi impegnato nel sociale vendeva i giornali quindi conosciuto davvero da tutti e allora i funerali di Dario Zandri per chi volesse partecipare sono pubblici e si svolgeranno oggi alle ore 15 nella chiesa di Sant'Agostino siamo quasi in chiusura la pagina ancora di Fano del resto del Carlino bella la nuova scuola ma prima ascoltateci dice il preside del Nolfi che mette le mani avanti noi abbiamo bisogno di un numero di aule almeno 30 maggiore di quelle previste ma dal prossimo anno dobbiamo disporre dell'intero edificio del Battisti la consigliera Tars si dice se proseguono con questi ritmi l'edificio sarà pronto tra circa 10 anni capite che non è proprio domani profumerie Douglas invece anche a Fano purtroppo sono nella lista delle chiusure è uno dei cinque negozi delle marche per cui si prevede la serrata la catena tedesca avrebbe già disdetto in Italia buona parte dei contratti di affitto 128 i punti vendita che sono coinvolti il nostro consiglio sfida il Covid invece terre roveresche qui sempre sedute in presenza la sala consigliare di Orciano è sufficientemente grande poi a Mondolfo addio al sorriso di Dario Zandri vi ricordo che alle 9 avremo la quaresima con il cardinal Raniero Cantaramessa quindi la predica poi esplorare i confini questa sera alle ore 21 dal titolo Gniezke e Wagner un'amicizia stellare con Enrico Capodaglio Roberto Galletto e Anna Caterina Cornacchini è tutto grazie per averci seguito buona giornata ci vediamo alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci